Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video, oggi è mattina presto e ho ben finito la calcolazione da un po' da prepararmi per andare al lavoro, ma ieri sera prima di andare a letto ho visto una notizia veramente importante riguardo a Copvoce, volevo fare video e volevo postarlo oggi e farvelo vedere. A cosa mi sto riferendo? Allora voi sapete benissimo che Copvoce fino adesso è forse l'operatore più cava in assoluto come tariffe, però questa cosa che vedrò ora è importante. Allora dal 17 giugno per il momento solo nei soci Cop di Firenze poi potrebbe essere che verrà assesa a tutta Italia, il periodo di valida di questa offerta è il 17 giugno 16 luglio, speriamo vivamente che sia assesa in tutta Italia perché ragazzi io personalmente la voglio fare essere così. Allora l'offerta si chiama Cop Evo 100, ovvero 100 giga, mille minuti, mille messaggi, 100 mega download, 50 in upload, quindi un po' stortzatino però vabbè 100 mega non è così male dai. Il prezzo 8 euro e 99, 9 euro attivazione e basta. In teoria se dovesse rimanere il bonus dei 30 euro quello che a cop, teoricamente lo faremo gratis e 9 euro comunque copertura team 100 giga ci può stare dai non è male 8 99 secondo me è un buon prezzo si generalmente uno dice ce l'ho un euro in meno ok ma quante tariffe ci sono copertura team a meno di 10 euro c'era una sì che io ho fatto nel profano era solo per i clienti team tipo sapete nell'area personale team no ogni tanto vi propone l'offerta era la team 50 m cosa del genere e costava impara 7 99 e raddoppiare ogni giga se facevi la debito sul carte di credito post a pay o insomma quanto corrente così io ho fatto sul post a pre e l'ho usufruito per un paio di mesi lì era 150 in download mi pare sia 50 in upload se ne ricordo male qui è simile però costa un euro in più ma calcoliamo che copro voce non rimodula invece gli operatori big rimodulano ed è così è sempre stato così loro lo giustificano dicendo per miglioramento della linea potrebbe anche essere a fini conti però è anche vero che miglioramento allora miglioramento c'è se magari mi dai qualcosa in più team quando a me ha rimodulato due tre mesi fa mi ha raggiunto 20 giga a due anni più quindi vabbè ci sta comunque ora torniamo copro voce cosa posso dire riguardo che l'offerta è ottima è sempre stata cara fino a da fino adesso c'è la 9 euro 50 50 giga ed è tanto fuori mercato però ricordiamoci due cose copro voce è un virtuale che opera storete team poi a punti vendita presenti su italia e oltre quello poi rifare restate posare tutti i giga anche in europa quindi diciamo che comunque quelli che tu utilizzi quali posare anche in europa senza problemi è un operatore serio ne parlavano bene di copro voce non ho ancora provato che adesso mio cognato uscita da due anni abbondanti alla non so se fossi alevo ma aveva 3 a 30 giga mi pare fossero 10 giga inizio sono entrati 30 regalandole mi ricordo comunque paga sempre diceva un mese 9 99 ed è un po carità lui si trova bene ma lui va spesso fa la spesa la coppa quindi magari anche quello che però questo qui 9 euro 8 99 se dovesse essere stesa tutta italia è probabile che la farò sapete cosa io mi sono appena fatto la sim di veri mobile che mi arriverà in teoria oggi mi arrivate ieri l'e-mail tra l'altro una cosa strana per c'è scritto consegna pacco oggi è l'unica cosa mi deve arrivare quindi per forza la sim consiglia da dhl pass e la cosa che è strano adesso stiamo parlando di copuro c'è ho fatto solo ma come al solito una piccola parentesi sapete io parlo sempre un po po di tutto noi mi escono fuori e va bene ci sta bene come fare un discorso un po da bar tornando discorsi che voce ha una buona fama tanti parla bene per essere un operatore serio che comunque non rimodula che tratta bene i clienti non sono debiti sconosciuto bisogna capire se copuro c'è che è abilitato a t ring e ok ma bisogna capire se ogni tot mesi che tu utilizza sim unicamente nel router non ti blocca la sim sapete come funzionano allora una sim generamente meno che nasce in assimilati non è fatta per essere messi sono dovuta che poi non lo facciamo è un altro discorso è fatta per usi utilizzo un po alterno c'è un po chiamata un po messaggi e un po t ring se vedono che di solito utilizzi la sim tanto tempo dentro sono dovute senza mai chiamare potrebbero rallentarti segnale o mandati un messaggio scritto guardare di usarla sim infatti la sim che ho fatto di veri mobile il mio scopo è la butte ogni tanto la tirò fuori fa una chiamata oppure potete semplicemente comprare un router quello che io comprovi un cordless attaccarlo e farla chiamata con quello così senza togliere la sim c'è da posto io posso chiedere e sperare che coprovoce rilascia questa offerta a tutta italia non solo a firenze perché ragazzi è interessante i 100 megan download sono davvero così tanto la sua struttura pensiamoci un attimo non sono male non sono 30 mega sul centro è il più del triplo sono me non è male coppia voce dicono che prende bene dicono che comunque è onesto che non rimodora senza clienti cordiale e serio professionale io personalmente attualmente ho appena fatto avere mobile come sapete ho la sim di fast web che adesso finirà nel mio telefono primario i due team le ho disattivate l'altro ieri in modo che avrò solo il fast web e il veri mobile o una sim e tiscali abbandonata sapete che l'ho fatta quindi potrei sfruttare la sim tiscali per fare questa voce qui vediamo vediamo un attimo perché comunque fatti diverse spese ma sta un potente anch'io anche per tampona vero per conto mio come ragazza ma e altre cosette insomma come tutti noi non c'è spese non è che non mi regalano purtroppo le sim quindi bisogna capire se si può fare sfruttando i 30 euro di bonus allora in questo discorso diverso perché comunque la pagherà il zero perché avrei comunque due mesi inclusi si alla fine c'è in realtà tre mesi dipende se sono 25 30 euro di bonus se fossero 30 euro ok e sono 9 18 27 fin di conti quindi non è male mi avvenirebbe qualcosa mentre via mi pare che avresti bonus più addirittura altri 4 euro di bonus dentro ma non nessun sicuro venire a capire un attimo non l'ho mai fatta con voce quindi questa sarebbe il momento giusto per farla sperando che rimanga ragazzi 30 euro di bonus che venga estesa tutta l'italia sta offerta sarebbe top copertura team mentre in modulazioni questa buona 100 megalti sta dai operatore serio che servizio clienti cordiale presenti punti vendita nella mia città ce ne sono però non proprio vicinissimi però ci sono potete anche un operatore eventualmente per farla sia online che negozio negozio però un costo diverso il secco migliato offerte di copo voce pagati in tavoli 20 euro invece online generalmente o i gratis o sono solo che nove euro che ho visto nelle notizie ma ancora non è stata lanciata è una specie di rumore e si chiama se volete andare a guardare su internet coppo voce evo 100 ok questo è il nome dell'offerta e adesso vi saluto ragazzi perché qui sono le anche sulle 6 e 32 di mattina e devo dare fare le cose per non riuscire per andare lavoro e vi ringrazio la visione vi auguro una buona giornata se avete domande commenti dubbi chiarimenti sono qui se non siete iscritti al canale iscrivetevi ma lasciate un bel pollicino in su chiedo scusa se ho un po la faccia da sonno e la voce da sonno ma è presto e spero che possiate apprezzare questo video e niente ci vediamo in prossimo video ciao ragazzi buona giornata ciao ciao